Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi è la pillola numero 550, quindi numero tondo, e questa volta io direttamente, senza sfruttare i poteri e le pillole passate di negative Ikudo, andrò ad accompagnarvi in un viaggio nel tempo, perché come facciamo ogni 50 pillole, per festeggiare il traguardo, andiamo a prendere la nostra DeLorean, la vedete alle mie spalle, che teniamo conservata giù sotto la Biblioteca di Alessandria, partiamo, raggiungiamo gli 88 mili orari, partiamo e ci spostiamo in un preciso periodo del tempo, cioè il 550 d.C. Ora, ogni volta facciamo un viaggio nel tempo, un viaggio nel tempo che inizia dall'Europa, per abitudine, e che poi si sposta in tutto il mondo, come se fossimo un po' dei turisti, che andiamo a vedere un momento, dei turisti temporali, che andiamo ad osservare un momento temporale, e ad osservare così come, rispetto ai 50 anni precedenti, le cose sono cambiate. E così partendo dal 100, adesso c'è anche il 50, dopo Cristo, fino appunto alla puntata di oggi, abbiamo visto l'evoluzione del mondo, evoluzione che è avvenuta in Europa, che è avvenuta in Africa, che è avvenuta in Asia, che è avvenuta nelle Americhe, noi abbiamo ancora parlato dell'Oceania, perché non c'è tantissimo da dire, le popolazioni aborigine, ma presto parleremo anche dell'Oceania. Quindi, preparatevi per questo viaggio, solo un consiglio, portatevi qualcosa di pesante, perché il mondo del 550 d.C. che andremo ad esplorare è un mondo freddo, è un mondo malato, è un mondo che, rispetto a quello che abbiamo conosciuto nelle ultime puntate, è cambiato completamente. Siamo entrati nel Medioevo, sia dal punto di vista, diciamo, dello studio, perché è passato il 476, ma come vedremo, siamo arrivati nel Medioevo. Anche dal punto di vista dell'ambientazione. Quindi, vestitevi pesante, salite tutti sulla DeLorean, siete pronti per il viaggio nel tempo. Meno male che da quando la biblioteca è cresciuta abbiamo investito un po' e abbiamo comprato la DeLorean, quel modello avanzato, quella degli ultimi due film, quella in grado di volare, perché prima di scendere giù io darei un'occhiata per capire bene dove atterrare. Come al solito, iniziamo il nostro viaggio da Roma, prima o poi cambieremo definitivamente, ma per oggi ancora iniziamo da Roma. Ma la Roma che c'è sotto di noi, che potete vedere, è una Roma molto diversa da quella che siamo abituati a incontrare in questi viaggi nel tempo. Se ci pensate, poche puntate fa arrivavamo ancora in una Roma che aveva un milione di abitanti ed era il brulicante centro di un impero sparsor su tutto il Mediterraneo. La Roma che abbiamo sotto, invece, è una Roma praticamente deserta. Di quel milione di abitanti non ne è rimasto quasi nessuno. Addirittura, secondo alcuni storici dell'epoca, alcuni cronisti dell'epoca, Procopio di Cesarea, addirittura qualche anno fa, per alcuni mesi, Roma è stata completamente disabitata. Completamente disabitata. Perché? Beh, tutto quello che può succedere. Il clima, le malattie e le guerre. Partiamo dal clima perché è qualcosa che colpisce in effetti tutto il mondo. Secondo quanto sappiamo, il mondo in cui ci troviamo adesso è un mondo molto più freddo di quello di 50 anni fa. Negli ultimi dieci anni ci sono state una serie di eruzioni vulcaniche in sequenza, alcuni addirittura pensano che possa essere arrivato un meteorite, però non ne abbiamo traccia e quindi non lo sappiamo. Ad ogni modo, una serie di eruzioni vulcaniche in sequenza che hanno sparato nell'atmosfera una gran quantità di pulviscolo che ha coperto per lunghi periodi la luce solare e che ha causato un abbassamento importantissimo delle temperature praticamente in tutto il mondo, tant'è che ne vedremo gli effetti veramente da qua alle Americhe, dovunque, ma che ha colpito durissimo in Europa facendo ridurre la produzione di cibo, facendo morire molti animali e in generale causando una carestia che si è diffusa in tutta l'Europa e come vedremo veramente in tutto il mondo. È una situazione che gli storici oggi studiano grazie ai depositi di ghiaccio, quelli che sono millenari che si trovano in Antartide, dove vengono proprio trovati questi strati di pulviscolo all'interno, oppure riescono a studiare grazie agli anelli di accrescimento di antichi alberi, che anche in questo caso, in questi anni, vedono un accrescimento decisamente più lento e minore, quindi un anello più piccolo, e questo indica, appunto, difficoltà di crescita e li si trova in tutto il mondo. In Europa, però, c'è un altro problema, perché in questo momento, in Europa e nel Vicino Oriente, imperversa la peste. La peste, ma non una peste qualunque, la peste vera e propria, lo Iersinia pestis, una peste incredibilmente dura, probabilmente uno dei primi casi in cui si è esplosa una vera e propria epidemia di peste, che pare sia arrivata dall'Egitto e poi si sia diffusa tramite i mercanti, quelli che portavano il grano, il grano che proprio dall'Egitto raggiungeva, dove il clima era ancora un po' più clemente, raggiungeva il resto d'Europa, la peste si è diffusa, grazie agli insetti che vivono sopra i ratti, da qui all'uomo. È la cosiddetta peste di Giustiniano, uno dei peggiori flagelli ad aver mai colpito l'Europa, uno dei peggiori flagelli ad aver mai colpito l'Italia, che è sotto di voi. Italia che in realtà aveva già un altro flagello, perché dal 535, quindi ormai sono 15 anni, l'Italia era colpita dalle cosiddette guerre gotiche. Ora, per potervi parlare di questo, lasciamo Roma, che tanto vi assicuro non credo ci sia niente di interessante da andare a vedere là sotto, e spostiamoci un pochettino verso l'est, spostiamoci a Costantinopoli. Costantinopoli è ancora una grande città, e in questo momento è probabilmente, anzi, togliamo probabilmente, è la città più importante di tutta l'Europa. Roma si è veramente trasferita definitivamente sul Bosforo, e qua ci rimarrà per parecchio tempo. Costantinopoli è il centro di un vasto impero, ve lo faccio vedere qua, nella cartina a fianco per un attimo, un impero che l'imperatore che attualmente regna, cioè Giustiniano, sta cercando di ricostruire. Quella che passerà alla storia come il tentativo di restaurazio imperi, cioè di restaurazione dell'impero. Giustiniano non l'ha fatto da solo, l'ha fatto grazie ai suoi generali, Belisario, Narsete, l'ha fatto grazie alla moglie, Teodora, che però adesso non c'è più, perché è morta due anni fa, nel 548, molto probabilmente di tumore, uno dei primi casi in cui un tumore viene descritto dai cronisti dell'epoca, praticamente quasi in presa diretta, una cosa veramente molto interessante. Ad ogni modo, Giustiniano è rimasto da solo, ma la sua idea di restaurazione dell'impero prosegue. E' proseguita con la guerra contro i vandali, che ha portato ad occupare l'Africa, con le guerre gotiche, combattute contro gli ostrogoti, che hanno portato negli ultimi anni prima a riconquistare quasi tutta l'Italia, poi a venire respinto, anche a causa di scontri con il generale Belisario, ma ne abbiamo parlato in cash show general, non voglio approfondire, e poi pian pianino riconquistarla. Però guerra, fame e malattie hanno semplicemente devastato l'Italia, svuotandola quasi completamente. Poi, oltre all'Italia, ha rioccupato anche una parte della Spagna, strappandola ai visigoti, sfruttando una guerra civile che era in corso 3-4 anni fa, proprio tra due re visigoti che si contendevano il trono, cosa che ha permesso appunto ai bizantini di approfittarne per rioccupare tutta la parte meridionale appunto della Spagna. Tornando però all'Italia, questa situazione durerà ancora parecchio, perché questa situazione, la carenza di cibo, la malattia, la guerra, dureranno ancora qualche anno, con il risultato di rendere l'Italia praticamente indifendibile, e da qui a qualche anno i Longobardi, che in questo momento si trovano ancora in Pannonia, quindi fuori dall'Italia, decideranno proprio di calare in Italia, la troveranno praticamente indifesa, troveranno delle città incapaci di reggere a un qualunque assedio che apriranno loro le porte piuttosto che fare la fame e riusciranno ad occuparne tutta la parte settentrionale. Insomma, è un impero romano d'Oriente che inizia ad avere dei crolli e un'Europa che si sta avviando verso il Medioevo, e un'Europa che è letteralmente, come dicono in inglese, nelle Dark Ages, nell'età oscura, ma ripeto, letteralmente, lo vedete nel cielo sopra di voi. Prima di spostarci dall'Europa parliamo ancora di due posti che sono molto interessanti anche perché avranno ripercussioni sul futuro. Il primo è il Regno dei Franchi, la Francia, diciamolo così, anche se in realtà si estende anche su una parte dell'attuale Germania, Belgio, e insomma, è un pochettino più ampia la zona. Ad ogni modo, il grande re dei Franchi che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata, nel 500 d.C., Clodoveo, è morto, è morto ormai da più di 30 anni, e alla sua morte, esattamente come fanno i regnanti Franchi, ha diviso il regno tra i quattro figli. Una cosa che vi vedremo capitare molto spesso negli anni successivi. Addirittura lo stesso Carlo Magno, dopo la sua morte, dividerà il suo impero tra i figli, perché questa era la tradizione dei Franchi, forse una tradizione che serviva a mantenere gestibile anche i grossi regni, ma una tradizione che a tutti gli effetti indebolisce il regno dei Franchi, anche perché i figli talvolta iniziano a combattere, a intrigare fra di loro per riuscire a riottenere i territori che erano stati dei padri. E così è successo anche in questi anni, con i quattro figli che hanno lottato proprio per ottenere i vari territori. E comunque una Francia, un regno dei Franchi, che sta conoscendo anche una ripresa dal punto di vista economico e culturale, perché il cristianesimo si è ormai diffuso in quasi tutto il territorio e gli stessi regnanti da una conversione diciamo più di facciata sono oramai, sono mai giunti probabilmente a una conversione decisamente più convinta e in questi anni stanno finanziando la costruzione di piccoli monasteri sparsi per il territorio che iniziano quella fioritura di monasteri che è proprio classica del Medioevo, anche in Francia. Pensate ad esempio al monastero di Cluny. Quindi insomma stiamo preparando un'epoca diversa. Così come un'epoca diversa si sta preparando dall'altra parte della Manica, perché dall'altra parte della Manica se andiamo a vedere in questo momento ci troviamo in quel gigantesco melting pot che qualcuno lo conosce magari appassionato è raccontato nel ciclo di Derfel, un ciclo di romanzi proprio ambientato in questo periodo. Quel periodo della storia inglese in cui l'Inghilterra era divisa. C'erano da una parte i regni dei Britanni e dall'altra c'erano le popolazioni anglosassoni, quelle popolazioni che giunte dall'Anglia o dalla Germania, dalla Danimarca da quella zona lì stavano migrando proprio in Inghilterra e partendo dalla parte più orientale si stavano progressivamente espandendo occupando nei vari territori creando dei nuovi regni strappando territorio ai Britanni che non erano in grado di difendersi e imponendo le loro leggi. All'interno dei Britanni poi c'è una commissione incredibile perché ci sono i regni più interni quelli nel Galles che hanno mantenuto maggiormente le tradizioni proprio britanniche hanno i druidi anche dal punto di vista religioso e poi invece ci sono tutti i regni più meridionali quelli che sono stati maggiormente romanizzati in cui si parla anche latino in cui la religione è molto spesso il cristianesimo in cui c'è ancora tutta una struttura copiata da quella romana insomma una vera e propria commissione una commissione che in realtà di qui a qualche anno sparirà perché con la battaglia di Deoram che si combatterà da qui a 27 anni e poi con la definitiva conquista gli anglosassoni occuperanno tutta l'Inghilterra e la manterranno fino al 1066 quando poi arriveranno i normanni con qualche intermezzo in mezzo di vichini ma insomma quella più o meno è la data di fine insomma un'Inghilterra che muta un'Inghilterra che ci accompagnerà in questa storia ancora nelle puntate successive prima di spostarci verso sud verso l'Africa vi do ancora però un piccolo punto perché secondo alcuni storici esattamente in quest'anno nel 550 d.C. appaiono all'orizzonte grossomodo nella parte orientale dell'attuale Ungheria un popolo di cui sentiremo molto parlare gli avari gli avari sono partiti probabilmente dall'Oriente dall'Estremo Oriente hanno attraversato tutto tutta la Siberia e attualmente hanno creato un grosso regno che si estende dal Mar Caspio al Mar Nero nella parte settentrionale bene gli avari proprio nel 550 iniziano a spostarsi verso l'Europa a fare i primi insediamenti ma vedremo che presto diventeranno il terrore dell'intera Europa diventeranno il terrore dell'impero bizantino insomma diventeranno qualcosa di cui parlare sta avvenendo un cambio della guardia perché di qui a pochi anni i bizantini subiranno l'ultimo grande attacco degli Unni che sarà fermato praticamente alle porte di Costantinopoli da Belisario ma presto arriveranno gli avari un popolo delle steppe dopo l'altro poi arriveranno gli Ungari poi arriveranno i Mongoli insomma ne parleremo ancora parecchio di questa invasione però mi piace dirvi che intanto gli avari sono arrivati e presto ne parleremo tutte queste guerre tutto questo caos in occidente hanno però un piatto della bilancia che scende dall'altra parte perché tanti bizantini si sono impegnati occidente tanto stanno avendo problemi invece ad oriente contro i loro antichi ormai incredibilmente antichi con nemici cioè i Sasanidi che se vi ricordate avevano sostituito i parti contro Roma ed erano stati per lungo tempo i nemici di Roma i Sasanidi in questi anni con il re dei re Cosroe I probabilmente uno dei più grandi re Sasanidi stanno conoscendo uno dei momenti di massima fioritura Cosroe ha combattuto per l'Armenia più volte contro i bizantini ha firmato quella che doveva essere una pace eterna con Giustiniano qualche anno fa una pace che in cui i bizantini pagavano ogni anno un tributo ai Sasanidi per il mantenimento della pace ma poi quella pace l'ha rotta più riprese e progressivamente ha eroso territori bizantini in Armenia nella zona quindi verso il Caucaso e in Siria strappando loro città fortificate e strappando loro territori Cosroe però non si è impegnato solo in questa zona ha combattuto nella zona dell'Arabia ha combattuto verso Oriente e sta combattendo anche all'interno perché in questo momento all'interno del del impero Sasanide che vedete intorno a noi si sta combattendo anche una vera e propria piccola guerra religiosa tra l'impero vero e proprio di culto zoroastriano diciamo ufficiale e una specie di eresia si vede che l'inizio del medioevo è proprio l'epoca delle eresie un'eresia dello zoroastresimo zoro spero di averlo detto bene guidata da un profeta che si chiama Mazdak è interessante come cosa perché in realtà sappiamo abbastanza poco di questa eresia perché tutti quelli che ne parlano ovviamente ne parlano dall'altra parte quindi ne parlano in senso negativo Mazdak è un profeta che è morto all'incirca 18 anni fa nel 532 il quale però ha lasciato un nutrito gruppo di seguaci contro i quali sta combattendo Cosroe questi seguaci pur adorando il fuoco pur facendo parte degli adoratori del fuoco quindi legati alla religione principale propagandano un'idea di vita comunitaria di perdita della ricchezza praticamente un'idea quasi proto cristiana se vogliamo di grosse comunità che vivono condividendo tutto condividendo le sostanze condividendo il lavoro un'idea che ovviamente molto mal si sposa con un impero in espansione e questo ovviamente porterà Cosroe I a cercare di limitarne la diffusione e anche a combatterli molto duramente Cosroe sta combattendo anche in oriente sta combattendo all'estremo posto del suo impero per scacciare gli unni bianchi vi ricordate ne abbiamo parlato nella scorsa puntata che nella scorsa puntata erano calati proprio nel nord dei territori Sasanidi fino ad arrivare in India e anche lì sta combattendo insomma un imperatore un re dei re del tutto combattente sta combattendo ma ne parleremo tra due minuti quando arriveremo all'Africa anche in Arabia ora l'Arabia che potete vedere intorno a voi è un'Arabia che in effetti in questi anni sta mutando sta mutando dal punto di vista politico perché iniziano ad affermarsi delle città-stato sempre più importanti secondo alcuni sta mutando anche dal punto di vista economico e diciamo biologico perché in Arabia in questo momento proprio grazie all'abbassamento delle temperature secondo molti storici è aumentata la piovosità con il risultato che i territori sempre desertici hanno iniziato ad aumentare la loro produzione di cibo con un conseguente aumento della popolazione e questo aumento della popolazione permetterà di qui a qualche anno all'Arabia di diventare il centro di uno dei più grandi dei più grandi movimenti che l'umanità abbia conosciuto cioè quell'espansione rapidissima fatta dagli arabi fatta dagli arabi musulmani che porteranno dei piccoli regni delle piccole città-stato a diventare un impero gigantesco nel giro di pochi anni tra l'altro di qui a qualche anno qui nascerà proprio maometto ma ne parleremo neanche ancora proprio nella prossima puntata perché lo accenderemo solo ne parleremo poi tra due puntate quindi insomma c'è ancora parecchio parecchio da attendere ma mi piace iniziare a dirvelo prima di andare avanti verso oriente però è interessante ritornare in Africa vi ricordate vi hanno già parlato l'Africa in questo momento non è ovviamente disabitata ci sono moltissime tribù sparse su tutto il continente ma di centri di potere ce ne sono principalmente due uno nell'Africa più orientale ed è il regno del Ghana che è nato all'incirca 250 anni fa ne abbiamo parlato dall'unione di varie tribù che hanno portato a questo regno un regno del Ghana che in questo momento sta conoscendo uno dei momenti di massimo fulgore sotto la dinastia Aukar che però è ancora un regno molto arretrato e soprattutto molto localizzato in una singola zona con pochi contatti soprattutto al di là del grande mare di sabbia del Sahara il cambiamento climatico non cambierà questa situazione cambierà questa situazione quando di qui a un secolo e mezzo un secolo e un secolo e mezzo con l'arrivo degli arabi verrà introdotto in questa zona il dromedario che come una vera nave del deserto aprirà le piste attraverso il deserto che attualmente passano più all'occidente quindi tagliano questa parte dell'Africa invece renderanno attraversabile questa zona dell'Africa è già attraversabile adesso ma la renderanno attraversabile più facilmente e apriranno questa zona al commercio e come vedremo anche all'invasione perché un giorno questo regno del Gara sarà occupato dagli almoravi di una dinastia proveniente dal nord una dinastia di origine arabo-berbera quindi insomma questa zona conoscerà dei cambiamenti però è ancora un regno abbastanza localizzato una zona che invece stiamo osservando nei suoi cambiamenti nelle ultime puntate è dalla parte opposta a oriente il regno di Axum questo regno che è nato al confine tra il Sudan e l'Etiopia si è poi espanso nella zona centrale del corno d'Africa in questi anni sta conoscendo o meglio ha conosciuto dieci anni fa un'espansione anche al di là un'espansione di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate che era stata principalmente commerciale verso la penisola araba e che invece dodici anni fa è diventata un'espansione militare perché il regno di Axum ha condotto delle campagne verso lo Yemen anche in questo caso impegnati in una vera e propria guerra civile con cui ha sottomesso lo Yemen sostituendo i regnanti locali con dei regnanti fedeli proprio al regno di Axum trasformandolo in un vero e proprio regno satellite questo controllo non durerà tantissimo perché di qui a qualche anno ci saranno degli scontri locali che porteranno i Sasanidi ad intervenire si combatteranno due guerre a distanza di 5 anni una tra 20 e una tra 25 anni se la prima sarà vinta dal regno di Axum la seconda sarà invece vinta dai Sasanidi con il risultato della perita dello Yemen ma non della perita della ricchezza perché il regno di Axum continuerà a prosperare e essere un regno molto ricco ancora per molti anni i problemi inizieranno ovviamente quando arriveranno gli arabi come vi ho già detto che hanno iniziato una primo embrione di questa fase di espansione ma ne parleremo in futuro se ci spostiamo in Asia scopriamo che in questi anni nasce un altro potentato di cui sentiremo parlare per tutto il Medioevo addirittura ne sentiamo ancora parlare oggi cioè per la prima volta nasce un canato turco i turchi sono una popolazione che in questo momento non sono assolutamente in Turchia si trovano in Asia nel territorio in grosso modo dell'attuale Uzbekistan Turkestan quella zona lì e hanno iniziato proprio in questi anni la loro espansione grazie a un grande comandante che si chiama Burmin Khan all'epoca i turchi erano una popolazione sottomessa a quella degli Wanwan una popolazione nomade dell'Asia anche loro come i Mongoli come gli Unni la quale governava tutto questo territorio i turchi Burmin Khan però hanno iniziato a coalizzarsi fra di loro tanto che Burmin ha chiesto proprio al Khan degli Wanwan di poter sposare una delle sue figlie di fronte al rifiuto di questo i turchi si sono ribellati e appoggiati dai regni cinesi dai regni cinesi del nord hanno che ovviamente subivano gli attacchi da parte di Wanwan hanno guidato una campagna che li ha portati a ribellarsi e a far nascere in realtà nascerà di qui a due anni il primo grande caganato turco che occupa appunto tutta questa zona un caganato Gorturk che come viene definito normalmente che occupa che è il primo il primo embrione di uno stato turco ci vorrà ancora parecchio tempo però perché i turchi si spossino in occidente qualcuno dice che però questo scontro è quello che ha spinto gli avari a spostarsi in Europa di cui abbiamo parlato prima ma in realtà quella cosa importante è che i turchi ora conoscono una fase di espansione una fase di espansione che li porterà progressivamente a diventare dei mercenari a servizio degli arabi a servizio delle varie popolazioni este europee fino a quando non decideranno di venirsi a installare proprio in questa zona ma ne parleremo veramente tra almeno quattro secoli quindi insomma c'è ancora veramente tanto da attendere però è interessante scoprire che appunto questo regno questo impero nasce in questo periodo per un impero che nasce peraltro anche loro sconfiggendo gli unibianchi che dopo essere stati protagonisti della scorsa puntata in Asia vengono invece sconfitti praticamente su tutti i campi dopo se questo erano gli unibianchi che da alcune parti vengono chiamati eftaliti ve lo lascio come curiosità se questo è un momento quindi di unione per le popolazioni della steppa è un momento di grossa divisione invece per l'India l'India vi metto una cartina come vedete non conosce più un unico impero l'impero Gupta del nord che era andato in crisi era crollato proprio nella scorsa puntata a questo punto si è completamente frantumato rimangono dei piccoli regni chiamati Gupta Tardivi che occupano la parte più orientale dell'India ma non hanno più un vero controllo e i suoi sovrani sono spesso dei semplici sovrani fantoccio senza più alcun controllo su un vero e proprio territorio dei protagonisti delle scorse puntate anche a sud è crollato un altro impero sono crollati i Vakatakas questo impero religioso governato da Bramini che si è completamente frantumato nel giro di pochi anni a causa di una serie di pessimi regnanti lasciando un puzzle di stati uno stato in effetti aveva già iniziato a combatteri era il regno Kadambas che abbiamo parlato nella scorsa puntata era un regno veramente molto affascinante governato da una serie di sovrani che consideravano la cultura la diffusione del sapere come un motivo di vanto ma soprattutto come un motivo per diventare governanti di solito i re erano anche tra le persone più acculturate del regno questo regno è crollato è crollato veramente pochissimi anni fa probabilmente 5-6 anni fa quando dei suoi vassalli i Ciaculas si sono ribellati non sono riusciti ad interrompere questa ribellione e i Ciaculas li hanno semplicemente conquistati strappando loro territori e costringendoli a diventare uno stato vassallo con la perita però di questi tre centri di potere in India quindi Gupta Vakatakas e a tutta la zona sud si è come vedete praticamente frantumata e l'India che abbiamo davanti è un'India ormai devastata ormai separata in tanti piccoli potentati è vero manca un forte potere centrale mancherà ancora per tanto tempo ma l'India in questo momento è un'India che sta ancora crescendo dal punto di vista culturale stanno nascendo le varie forme di buddismo stanno nascendo delle forme sincretiche tra il buddismo e l'induismo sapete che le due religioni in alcune cose si uniscono dato che i buddhisti sono riusciti a includere una parte del buddismo del Buddha all'interno del loro pantheon questa evoluzione culturale culturale e religiosa sta proprio nascendo in questo periodo quindi un'India frantumata come sarà tra poco l'Europa nel Medioevo è però un'India che cresce dal punto di vista culturale e religioso probabilmente la stessa cosa che farà l'Europa nel Medioevo quasi dei parallelismi così come frantumata l'India è frantumata anche la Cina dove ci troviamo in questo momento ora la Cina conosce il termine in questi anni del suo periodo di grande frantumazione che era iniziato con gli stati combattenti e che era poi proseguito negli anni successivi nonostante si fossero ristabiliti per alcuni anni dei regni che avevano tentato di riunirla la Cina in questo momento è divisa in potentati il sud è ancora abbastanza unito ma è un'unione più di facciata che di altro perché i signori locali contendono il controllo del territorio all'imperatore il nord invece quattro anni fa si è definitivamente unito disunito che lo scusa è diviso in due parti diviso in due parti entrambe della cosa curiosa governate anche in questo caso da imperatori del tutto fantocci che sono in realtà governati dai signori locali che si contendono poi il controllo del trono questo ha portato la Cina a una rapida caduta dal punto di vista economico dal punto di vista culturale tanto che negli ultimi anni ha perso la possibilità di controllare e influenzare i territori vicino non influenza più l'Indocina quindi il Vietnam se non in minima parte dal punto di vista economico non influenza più non ha più riconquistato il potere sulla Corea che sta conoscendo il suo periodo dei tre regni ma ne abbiamo già parlato qualche puntata fa insomma è una Cina che si sta lentamente chiudendo in sé che sta collassando qualche anno fa è nato però un uomo che si chiama Yang Yan e che un giorno diventerà l'imperatore Wei un giorno sarà il restauratore della Cina ma dato che succederà tra un po' di anni ne parleremo nella prossima puntata però la Cina lasciamola perché come tutto il resto di quello che abbiamo visto si è anch'essa frantumata come vedete sono anni veramente di grande frantumazione degli stati in tutto il mondo forse beh in questo caso il processo è iniziato da parecchi secoli ma forse anche legati proprio alle condizioni climatiche e in generale la situazione mondiale dove invece la situazione è all'esatto opposto è in Giappone ora finalmente iniziamo a poter parlare di un Giappone vero e proprio perché nel 538 per gli storici termina il cosiddetto periodo Kofun cioè il periodo in cui la piccola tribù di Yamato ha completato la sua espansione e da piccola tribù è diventata la vera potenza dominante in tutto il Giappone conquistando parti di tutte le altre isole tranne quella Nord Hokkaido lì ci vorrà ancora molto tempo e quindi nato per la prima volta un vero e proprio potentato che può dirsi un proto stato giapponese l'imperatore che governa attualmente si chiama Kinmei ma non è ancora imperatore non si fanno chiamare così ma sono i grandi re del cielo e della terra o come in altre versioni i grandi re di Yamato che è ancora il nome che viene dato a questo territorio il grande regno di Yamato che sta appunto diventando impero giapponese e un regno che sta rapidamente recuperando il gap con gli stati vicino anche perché sono iniziati dei rapporti sempre più stretti con la Corea quindi con i tre regni rapporti economici anche dal punto di vista politici tanto che alcuni pensano che gli imperatori in questo periodo i re di Yamato scusatemi siano in grado addirittura di influenzare la politica dei regni più meridionali della Corea e attraverso la Corea ovviamente i rapporti con la Cina che sta diventando anche un esportatore di cultura ed esporta la sua cultura anche nel Giappone un Giappone che ripeto è ancora arretrato ma che così come succederà di qui a un millennio e più è molto affamato per recuperare la differenza tecnologica e lo sta facendo molto rapidamente e pian pianino sta nascendo l'impero giapponese lo stiamo osservando puntata dopo puntata siamo quasi arrivati a questo punto ci va ancora qualche anno e per finire questo lungo viaggio spostiamoci in America ora in America abbiamo due situazioni completamente diverse nel centro America la città di Teotihuacan che ci ha accompagnato per tutti questi anni ha iniziato la sua fase di crollo e rallentamento secondo alcuni storici anche in questo caso una delle cause potrebbe essere proprio il calo della produzione agricola che ha creato delle rivolte ha creato dei problemi interni ha creato progressivamente la perita del controllo da parte di Teotihuacan e dei suoi territori più esterni che però erano molto importanti perché erano quelli che avevano le miniere più ricche questo ha fatto cadere diminuire la capacità e il potere della fazione religiosa quella che controllava tutti gli effetti della città con il risultato che probabilmente stanno scoppiando delle rivolte proprio in questi anni rivolte che peggioreranno e che secondo alcuni storici causeranno proprio la fine della città di qui a qualche anno ne parleremo tra una puntata o due e che lasciaranno proprio il loro segno anche visivo con una serie di incendi sulla città che oggi è una delle meraviglie del mondo la cultura di Teotihuacan però non morirà perché proseguirà e arriverà fino agli aztechi fino agli ultimi popoli precolombiani ma vedremo in futuro una situazione simile sempre per motivi anche anche naturali la sta conoscendo un altro popolo al sud la civiltà di Nazca la civiltà di cui abbiamo parlato qualche puntata fa che poi aveva continuato a prosperare quella dei grandi disegni tracciati nella pietra ebbene la civiltà di Nazca anche in questo caso una civiltà che aveva il suo cuore nella religione sta conoscendo in questi anni una perita di potere non tanto della civiltà che proseguirà quanto proprio della città di Nazca che sta venendo minacciata dall'avanzare del deserto con il risultato che una parte della sua popolazione si sta spostando spostando in questo modo il centro di potere e lasciando poi questi meravigliosi disegni che conosciamo abbandonati attraverso i secoli fino a noi le cose sono invece diverse dalla parte opposta in una zona di cui non abbiamo mai parlato cioè il Nord America nel Nord America nella zona del West per intenderci infatti pian pianino le popolazioni locali dei nativi americani stanno iniziando a coagularsi in tribù sempre più grandi tribù che stanno conoscendo un avanzamento dal punto di vista culturale ma soprattutto costruttivo è la cosiddetta ultima fase dei creatori di cestini perché appunto creavano cestini in cui le piccole case le piccole abitazioni temporanei di un popolo che fino a quel momento migrava e si spostava per vivere iniziano a diventare sempre più grandi a essere sempre poter unire sempre più famiglie sempre più grande la costruzione e presto si uniranno a diventare dei veri e propri villaggi stanziali perché sta per iniziare la nascita dei cosiddetti pueblos cioè queste piccole città temporanee stanziali comunque che cambieranno proprio la vita di questi popoli che per un periodo conosceranno proprio un periodo stanziale con agricoltura e meno nomade una cosa che forse è difficile associare ai nativi americani ma che in effetti sarà una cosa molto interessante di cui parleremo bene il nostro viaggio è finito come detto non è che non ci siano altre popolazioni che queste popolazioni non hanno ancora creato dei regni di cui forse può essere interessante parlare non ci hanno lasciato molto di loro non ci hanno lasciato molto da scoprire e questo rende un po' difficile anche orientare la nostra macchina del tempo per andarli a trovare spero che questo viaggio vi sia piaciuto come vedete è stato un viaggio che ci ha portato in un mondo completamente diverso i 550 è un mondo freddo è un mondo diviso è un mondo veramente veramente medievale anche se non possiamo dire in tutto il mondo in alcune la crescita è continuata comunque spero che vi sia piaciuto spero che continuate a seguirci per le prossime 50 pillole fino al viaggio nel tempo nel 600 come vedremo sarà ancora diverso ne approfitto come sempre per ringraziare tutti ringraziare tutti quelli che collaborano con la biblioteca ringraziare tutti quelli che ci seguono sono state 50 pillole interessanti spero che le prossime 50 lo siano altrettanto se non volete perdervele e non lo siete già iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati e come al solito ricordatevi di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessuno registra ma è la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia tra due giorni e ci vediamo tra 50 pillole con un nuovo viaggio nel tempo a presto ciao ciao